Amici di Montaguto, a Roma, alla nuvola, al firmacopie di Goodbye Irpinia, io vi dicevo che c'era un po' di Montaguto alla nuvola e vi ho beccato Rosa, ciao Rosa! Ciao! Allora Rosa, io ti faccio la classica domanda montagutese, a chi appartiene? Sono la nipote di Maria Fedele, la figlia di Angelina, una delle gemelle. Allora, noi non ci siamo mai visti a Montaguto, ci siamo visti a Roma, è una cosa meravigliosa. Come diceva l'amico Cesare, che voglio salutare, che tra l'altro, oltre ad essere giuventino, è anche il mio editor, quindi editor giuventino, ha detto voi montagutesi siete 100 ma nel mondo siete 7 milioni. Allora, ti voglio chiedere un saluto in montagutese. No, allora in italiano, a tutti i montagutesi del mondo, qua da Roma, dalla nuvola. Ciao a tutti i montagutesi nel mondo. Caramba proprio, ecco, montaguto nel mondo, mo ci vuole. Ciao Rosa, grazie. Ciao.